Opa sorridi, di qualche impressione su questo viaggio impossibile, 3500 metri, ci manca all'aria, all'acqua, abbiamo avuto la viaggia per tre giorni, qui si stanno tutti fermi, c'è un odore di frizioni bruciate ogni 5 minuti, per fortuna qualche musicante, e torniamo indietro perché qua... Mission impossible, I came back, se saluto... No, non si può fare, perché qua qualcuno dice 500 metri e poi tutta buona, l'abbiamo fatti due di chilometri così, è tremendo, poi qualcuno invece dice 5 chilometri, qualcuno dice no no, fino a lei è tutta così, ah va bene, allora senti, fiamo una jeep, così se la smanettano loro, guarda come si divertono quelli là, madonna che casino, ciao ragazzi, alla prossima.